A Gismau è un progetto completamente rinnovato che abbiamo messo a punto con School of Management del Politecnico di Milano, Sdabocconi, Garner e oltre 160 territoriali di Confindustria con l'obiettivo di portare l'innovazione a casa dell'impresa, dell'imprenditore per aiutarlo a comprendere come innovare il proprio business con successo. Oggi Smau non è più solo a Milano, ha un circuito di appuntamenti sul territorio, la prima tappa è a Bari il 15-16 febbraio al nuovo padiglione della Fiera del Levante. Quest'anno Smau parlerà dei nuovi trend tecnologici per aiutare l'imprenditore a capire come concretamente adottarli nella propria azienda, quindi si parlerà di cloud computing, di sistemi di comunicazione e collaborazioni avanzati, di stampa intelligente, di social media, tablet, smartphone, quindi tutto ciò che può aiutare oggi l'imprenditore a competere con successo. Diciamo che in due giorni noi forniamo all'imprenditore tutti gli strumenti utili per capire come le tecnologie possono aiutare il suo business, quindi workshop a cura delle più autorevoli business school, tutti i fornitori di tecnologie che possono aiutare poi concretamente l'imprenditore a innovare la propria impresa, i migliori casi di successo del territorio, quindi a Bari ci sarà un premio innovazione che ha raccolto centinaia di casi di adozioni di tecnologie da parte degli imprenditori locali e ha selezionato una trentina di finalisti e a Bari il primo giorno ci sarà appunto la premiazione dei vincitori, quindi in fiera sarà possibile imparare dalle esperienze virtuose. I main partner di questo appuntamento sono tra gli altri IBM, Microsoft, Intel, Cisco, Fujitsu, Zucchetti che saranno presenti in fiera insieme ai loro partner che sono poi i soggetti che poi concretamente aiutano l'imprenditore a implementare la tecnologia in azienda. L'industria ICT sta in questo momento attraversando un profondo mutamento, stanno cambiando i modelli di erogazione dei servizi, per cui SMAO oggi ha il compito di aiutare l'operatore di canale, quindi il mondo ICT, a comprendere l'opportunità di questi nuovi modelli di business, per cui a SMAO avremo un progetto dedicato al mondo del canale, con un'arena di workshop molto concreti in cui aiuteremo l'operatore di canale a capire i prodotti dei nuovi vendor, i nuovi modelli di erogazione dei servizi. Partner dell'iniziativa è Computer Gross, che è comunque uno dei grandi distributori del mercato italiano e Confindustria Bari, nello specifico nella tappa di Bari, che darà a tutti i partecipanti ai workshop un attestato di partecipazione al termine di un percorso formativo. Dopo Bari, SMAO prosegue il suo tour per l'Italia e andrà quindi a Roma il 21-22 marzo, Padova il 18-19 aprile, Bologna il 6-7 giugno e poi ci sarà il tradizionale appuntamento a Milano a fine ottobre.